Il ruolo di Matteo Messina Denaro è stato centrale nella fase deliberativa sia della strage di Capaci che di quella di Via D'Amelio, una strategia unitaria del quale Messina Denaro è stato coinvolto fin dal primo momento. A tracciare il profilo di Diabolic, ossia l'ultimo dei boss di Cosa Nostra, latitante da 23 anni, Elia Sava, il procuratore facente funzioni di Caltanissetta, che ai microfoni dei cronisti parla di un piano unico e solo, messo in atto dall'ex padrino di Corleone, Totò Rina, che non avrebbe risparmiato tutti coloro che durante la stagione delle stragi si opponevano all'organizzazione mafiosa e che pone al centro dell'attenzione colui che rappresenta uno dei concorrenti morali delle stragi di mafia, il fedelissimo del boss, Matteo Messina Denaro. Tutti coloro che in quel periodo si frapposero anche a livello massmediatico all'organizzazione mafiosa dovevano essere eliminati. Erano nell'elenco di Salvatore Rina come nemici di quella strategia. Pensiamo per esempio a Pippo Baudo, a Santoro Barbato, a tutti coloro che all'interno del mondo dello spettacolo avevano fatto delle dichiarazioni. Maurizio Costanzo chiaramente il più emblematico considerando che alla fine del mese di settembre del 91 addirittura fece delle affermazioni molto pesanti nel corso della trasmissione nella quale addirittura si bruciò la maglietta di Cosa Nostra e quindi da quel momento in poi divenne uno degli obiettivi. La procura della Repubblica di Caltanissetta, la direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta con l'apporto chiaramente anche della Direzione Nazionale Antimafia, non si ferma nella individuazione di tutti gli aspetti relativi alle stragi. Quindi si va per step. Adesso noi consegniamo alla valutazione poi quella che sarà della Corte d'Assise il ruolo di Matteo Messina Denaro come ideatore anche lui, quindi concorrente morale nelle stragi. Ma non ci fermiamo, andremo avanti perché abbiamo degli spunti sui quali lavoreremo e continueremo a lavorare com'è doveroso da parte della magistratura nel suo complesso far luce su fatti così gravi. Tutto quello che riguarderà la cattura, le modalità della cattura di Matteo Messina Denaro saranno analizzati e discussi in assoluta sintonia con le direttive della Direzione Nazionale Antimafia del gruppo Interforce in coordinamento con la Procura di Palermo. Ci muoveremo all'unisono tutti insieme perché l'obiettivo, la cattura di Matteo Messina Denaro è un obiettivo comune che deve essere concordato perché se non si agisce in sintonia si rischia di pregiudicare e non di avvicinare quel momento.